Allora, io il bon cake l'ho tirato fuori dal forno. Eccolo qua, guardate come è bello, colore bellissimo dorato. Ora andrò a mettere sopra del cioccolato con un sacco a sosho. Potete anche mettere zucchero a velo, guarda come volete. Io andrò a venire con un po' di cioccolato fondente sciolto con un goccio di latte nel forno microonde. Allora, vediamo se riesce, perché si sta indurendo. Si è indurito un po' il cioccolato. Allora, si è indurito. Voi le spalmate così. Allora. 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 Voi andrò a mettere così. Con un cucchiaino. e lo faccio scendere un po'. Allora. 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 Ecco qua, signore. Un bon cake è terminato. Con una colata di cioccolato. Volendo potete mettere lo zucchero a velo, come volete voi. e questo dolce. E' buonissimo. E' buonissimo. Eccolo qua. Ora. Ve lo vorrei far vedere come è dentro, ma è bello caldo. Vediamo un po', cerco di tagliarlo. E' ancora palla bollente. per aspettare un po prima di tagliarlo ora ve lo mostro eccolo qua vedete come è venuto dentro è venuto molto molto bene molto morbido si si è morbidissimo soffice e questo è il mio plum cake ricetta velocissima facilissima da realizzare e con questo io vi saluto e vi dico buona serata e ci vediamo alla prossima ricetta se vi piace questo dolce mettete un like ciao a tutti e buona continuazione di serata